E' arrivata la Roma, è arrivata anche la Roma che batte 2 a 0 il Parma, si pone in quinta posizione a due punti dalla Lazio. E dunque è una Roma che vince col Parma da grande squadra, da squadra che è tornata ai suoi livelli, da squadra che non è impegnata e non consuma energie splendide, piacevoli energie in Champions League e torna dunque protagonista del campionato. Vista la rosa, vista la caratura, è diventato facile per chi pensava o sperava che la Roma tornasse, ora dire sì, avevamo ragione. Dunque è una partita che vede la Roma nel primo tempo non impegnare in maniera importante sepe il portiere del Parma, Anzi, l'occasione principale, l'occasione più ghiotta, l'occasione più importante capita proprio alla squadra di D'Aversa con Siligardi e qui ecco il portiere Olsen, quando un portiere regala tre punti, una parata che vale come un gol. La parata su Siligardi che si era presentato solo davanti a lui per salvare. Dopo, ripeto, un primo tempo che ha visto la Roma, certo, controllare, al Parma andava bene questo ritmo abbastanza sincopato e dunque primo tempo scontato da 0 a 0. Poi la Roma non offre solo giocatori importanti come Zaniolo, ha creduto, ha investito e sta raccogliendo i frutti dopo qualche settimana, direi qualche mese, un po' difficile, sembrava che non avesse la possibilità di fare un salto di qualità in una grande squadra, ecco Brian Cristante. Cristante è già decisivo con due reti e tre assist, oggi imita il suo vecchio compagno, o meglio il suo vecchio ex compagno nei tempi dell'Atalanta, Petagna e con un colpo di testa preciso in diagonale su corner batte il portiere Sepe. Un colpo di testa con una bella elevazione alla Michael Jordan, dico io, è rimasto in cielo vicino ai cirricumuli e Cristante, tac, con un colpo preciso batte il portiere Sepe. Chiaro che ora diventa tutto più facile per la Roma, che controlla il Parma, che non sa reagire con pericolosità, Olsen non diventa protagonista, diventa protagonista anche Under, un po' fortunato perché è un rimpallo dopo un'azione di Dzeko, lo trova puntuale con un bouquet di Sorasio, fiorista molto caro in Rue Boussard a Monte Carlo, si trova là con l'appuntamento invece che con la sua bella, col pallone, col suo bello il pallone e realizza il gol del 2-0. Partita praticamente finita, la Roma controlla e chiude questo importante match perché vincere a Parma è da grande squadra. Dunque, una Roma che, ripeto, torna ai suoi livelli, chiude una qualche settimana, direi, piuttosto intricata, piuttosto complicata, che ha portato addirittura, si diceva, si diceva, all'esonero di Di Francesco, si parlava di tanti nomi, Paolo Sosa o Montella, questa è la risposta della Roma. La Roma, d'altra parte, è una squadra di caratura, è in Champions League, semifinale di Champions League lo scorso anno, ora affronterà il Porto e se sarà questa Roma potrà anche essere assolutamente competitiva anche contro i portoghesi, sempre pericolosa e ora diventa protagonista del campionato. si iscrive, ma forse non è stata mai allontanata, si iscrive legittimamente nell'elenco, si iscrive nelle candidate ad arrivare fra le prime quattro. Quindi è una Roma che chiude molto bene l'annata, un'annata che l'ha vista protagonista negativa in qualche partita, ma ci sembra una Roma tornata in salute, lo aveva dimostrato tutto sommato anche sul difficile campo della, sul complicatissimo, sull'intricatissimo campo della Juventus. E dunque Roma che è tornata protagonista. Cristante, decisivo, importante, a dimostrazione che la Roma crede nei giovani, Zaniolo, Cristante, quindi giocatori interessanti, giocatori di prospettiva, che stanno ovviamente legittimando il lavoro del direttore sportivo Monci. Dunque Roma che batte 2-0, Under si conferma giocatore dal fiuto del gol importante in area, e Roma dunque che vince, batte il Parma e festeggia il capodanno al quinto posto, per adesso in attesa della partita del Milan con la spalla. Se vi è piaciuto un like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.